Pucerial Allora lo sapete, l'ultima ha fatto polemica, non ci ha mai fatto polemica con nessuno però fai a scena un disco hanno un mese e mezzo rimisa quando è scelto un disco con me con lo stesso titolo, Innocente, tale e quale allora dicono, si chi lo può non lo sapeva, chi lo non lo sapeva questo è un rimulione di follower, tu non ti senti nessuno hai capito, ma i discografi sui lo sapevano buono il disco mi è scelto un coppa SM Magazine, Rolling Stone, Billboard, per tutte le parti loro lo sapevano allora io penso che a casa parla sempre rispetto delle canzoni, rispetto a qua, rispetto a là ma che rispetto è? non è rispetto per me che rappresenta solo il rap a Napoli e quindi rappresenta Napoli, non sto rispettando Napoli si fai a scena un disco con lo stesso titolo, tale e quale non è rispetto per qualcuno che stanno in galera che hanno cantato il disco con me l'aggione che sfa una galera vera e can sa te e ce l'indicato